eccomi sono qua all'autoglass dove ero venuto a cambiare i come si chiamano sotto gli est dove sono venuto a cambiare i film a mettere questi guardar che purtroppo il problema è che veniva dentro l'acqua e quindi adesso l'ho poi riportata ed è rimasta qua e il tipo qui mi fa ma quanti anni ha la macchina? pensava che la macchina fosse degli anni 60 e si è messo a ridere non ci crede comunque adesso visto che è bagnata siamo qua dentro al garage la macchina è bagnata perché gli hanno fatto le prove per vedere se entra l'acqua perché l'ultima volta che l'ho ritirata l'acqua veniva dentro e quindi ora vediamo come va le gomme devo dire che vanno bene ma non mi piacciono in effetti il problema è che una volta che mi hanno messo i film hanno smontato i vetri però dopo rimontandoli l'acqua entrava attraverso le guarnizioni praticamente sono state giornate di grande pioggia e entrava parecchia acqua e quindi l'ho dovuta riportare per farla sistemare tornando alle gomme non mi piacciono per niente e quindi le cambierò queste qua proprio non mi piacciono e questo è quanto ora vediamo come va buongiorno sto andando per il gas check gas controllo e il peggio hanno sistemato al mercury market l'anno praticamente allargato hanno ingrandito è normale ma c'è in italia il mercury market e che carriera ho messo la cassettina e perché è molto pratica e comoda qualcosa ci sta proprio giusta capito per mettere le cosettine no whatever c'è la cassettina e così siamo a posto cos'altro devo cambiare le gomme ho messo queste qua che ho cambiato avrò fatto circa 300 chilometri ma non mi piacciono ma sono pratiche cioè nel senso pratiche gira sono comode comode vanno avanti però ho visto che trovandomi in un prato bagnato e mettendo le ridotte senza chiudere gli hub non succede assolutamente nulla le ruote girano a vuoto e e quindi e quindi niente quindi devo cambiarle e penso niente devo metterne delle altre un po più belle un po più grandi perché queste qua mi rovinano capito la visione dell'auto a vederla piccolina così tanto vale che prendo la macchina alta se poi metto le ruote basse ok una cosa che ho notato è che in autostrada raggiungo subito i 100 raggiungo subito una velocità con queste ruotine piccole non te ne accorgi e arrivi subito diciamo i 90 dai perché normalmente io con questa vado gli 80 ma raggiungo subito i 100 cosa che mai mi era successa prima anzi sconsiglio vivamente di andare ai 100 con con quest'auto però con le ruote più piccole la stabilità devo dire che la senti non è che ti porta fuori strada non è che ha degli sbalzi come con la con le altre no nel senso la vedi la macchina la senti che inizia magari a dondolare se vai a una velocità più sostenuta invece con le ruote più basse questa cosa non succede è il pc diminuito benzina diminuita io non lo so che cosa sta succedendo sono diminuiti i prezzi del carburante ma a capire dalla parte opposta c'è la città di xeviets e io sto andando in un in una frazione della città per per sistemare per controllare l'elpg lpg ed è il 7 guarda cosa ho messo guarda che sono belli e anche l'altro e beh dai sono delle piccolezze che adesso su aliexpress stamattina la giornata dei buchi o su su aliexpress ho ordinato un altro di questi però più piccolino questi qua sono comodissimi non ho visto nessuno che sulla whats ce l'abbia perché non capiscono vogliono capire invece invece col volante così grande questo qua è molto pratico buco è molto pratico perché ti permette di governare la macchina benissimo durante i parcheggi e non devi tenerla così insomma la tieni cosa hai capito praticissimo no dovevo andare di là fuck it caspiterina devo tornare indietro puttana miseria ok 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 Grazie a tutti. 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 Allora qualche giorno fa sono uscito da un supermercato. Nella strada che mi portava nella strada principale, quindi ho fatto uno stop, la strada si divideva in due corsie. Non so se riesco a spieghermi bene, non so se riesco a spieghermi bene. Con un'altra wazza, con un'altra wazza, un'altra bucanca di fianco. Tutte e due ci siamo proprio incontrati così, no? E questo qui è l'unico, siamo in due praticamente che abbiamo il bucanca. Io e quest'altro personaggio che vive qua nelle montagne e che ha una sorta di bed and breakfast. la sua wazza è la sua wazza è molto più vecchia della mia e pensa che la mia sia stata rimodernata, no? Pensa che abbia la stessa età della sua e che sia stata rimodernata. Allora quando mi vede dice, cazzo come l'ha rimodernata bene. Invece quello di ieri dell'autoglass gli ha detto, no, guarda che è una macchina. È una macchina nuova. Siamo in due. No, mi è venuto in mente perché di Lada ne ho contate qui nella zona tre. Ok, mentre invece di bucanca siamo in due. Ed è sette, questo è quanto. Era giusto per... Siamo in pochi, insomma, ecco. Ci sono e anche di 469, di chi ha la Jeep, di questi ne ho trovati, ma anche questi sono sempre numerati, tre, che mi capita così di vederli uno che abita vicino a casa mia e un altro che ho incontrato strada facendo, ma forse quattro, dai. Non so se quello era lo stesso. Comunque dai, facciamo quattro. E quella là? Ah, una Jeep. Capito? E quindi siamo proprio contati, insomma. Facciamo pure dieci persone in tutto che hanno la Waz e la... che hanno la macchina russa, ecco. Ora andiamo avanti. Sono le nove e meno un quarto e spero di non averlo già saltato. Fuck it. Mi sa che l'ho già saltato. Mi sa che l'ho già passato. Cazzo, l'ho già passato. Puttana miseria. Sì, 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 oggi è la mattina dello sbagliare strada con i buchi non è qua non è qua non è qui guarda guarda quelli si guarda imbranati alla guida guarda ma dov'è? ma dov'è andato? ma non era di qua? ma porca miseria dovrebbe essere qua ma non è neanche qua ma dov'è? oh signore benedetto ah eccolo qua ah eccolo qua ma bella potter toll potter rot potter 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 os say quando mi hanno montato il gas c'è stato un piccolo errore nel sistemare la riserva cioè mi viaggia al contrario metto il pieno e dopo 30 km magari mi mette già in riserva e quindi adesso l'abbiamo sistemato